ciao ragazzi vedete castelmagno castelmagno la terra del ra dei formaggi gemellato con qui tengo biella sto andando a castelmagno al compleanno di elisa isoardi che oggi compie non ve lo dico ve lo dirà poi lei e ho pensato di fargli una sorpresa un regalino da montanaro mi sto avvicinando al ristorante del largo della fonte dove dovrei trovare elisa dovrebbe essere qua ho pensato di portare un piccolo maggio auguri di buon compleanno apri vediamo sfilo 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 apri non si sfilo ma io stacco spero di farti cosa gradita ciao Piero Aldo sicuramente ciao Piero Aldo e copia l'aperitivo aiutalo Silvano pioggia sul viso con Silvano e e ma che cos'è dai buono per escursione ma dai sul monte Tiber dove siamo andati quest'estate più o meno a d'orso della regina delle vette la mura pioggia accompagnata da ma grazie ma guarda che bella ma lei ma che la mura bellissima non l'ha mai montata nessuno solo il sottoscritto ma davvero te la fanno montare a te nel 2019 ma che meraviglia quando ci andiamo? ecco combiniamo qualsiasi giorno appena va via la neve ah fantastico beh ma scusate ma via tutti la mura non avevano regalato nessuno ma nessuno ma grazie ma teniamo via la neve prendo la mura e vado sul Tiber si si grazie complimenti io monto la sorella che ho ancora da addestrare ancora da iniziare l'addestramento che fa tre anni adesso hai capito? ci vuole vagilberto che è vero io con la mura nel 2019 ho fatto trenta trevette oltre i tremila metri da qua a Rocciamelone complimenti grazie allora questo è un bellissimo regalo di compleanno grazie e di dove siete? di San Domeno allora lo teniamo questo è un bel biglietto eh bel grosso almeno ce lo ricordiamo e poi ci sentiamo va bene va bene grazie e la mura ma guarda che cos'è dai buono per escursione ma dai sul monte Tiber eh il Tiber dove siamo andati quest'estate più o meno a dorso della regina delle vette la mula pioggia accompagnata da ma grazie è bella è bella è bella è bella è bellissima non l'ha mai montata nessuno se non il sottoscritto ma davvero ce la fanno montata a te nel 2019 ma che meraviglia quando ci siamo? confiniamo qualsiasi giorno appena va via la neve ah fantastico la mamma di Elisa che X non dico le tasse ma vuol dire lei ha partolito Elisa il 27 dicembre il 27 dicembre ok e qua abbiamo anche Pieraldo e poi si l'amico Pieraldo l'ultimo video che ho fatto su YouTube mentre lui toglie la druggia 80 90.000 visualizzazioni siamo l'altra sera è andato a Dronero gli hanno steso il tappeto rosso eh eh ti meschi il condeggio sei a posto è bello ma grazie a noi eccoci ci fai vela per i Dio ragazzi grazie del pensiero mi ve la sono avuta ti piacerà? da Matt ma perchè mi parla con Costanza ma di ma no ma fidati che che gli piace voi volete anche un bicchiere? no no ciga donna Irma auguri a voi auguri a voi buon anno grazie a voi grazie 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 grazie